Salve a tutti, in questo video vi propongo un altro quesito tratto dal test di ammissione alla scuola normale. Il testo è il seguente. Si determinano tutte le coppie x y di interi positivi che soddisfano l'equazione 1 su x più 1 su y uguale 1 sesto. Come al solito io ritengo interessante, prima di cercare di risolvere il problema in maniera generale, di fare qualche esempio concreto, cioè ad esempio di trovare qualche numero intero che soddisfa l'equazione un po' per tentativi. Allora, forse il ragionamento più semplice che si può fare per trovare almeno una soluzione è quella di dire, beh, supponiamo che x sia uguale a y, quindi proviamo a pensare un sesto come somma di due frazioni uguali. Chiaramente queste frazioni saranno la metà di un sesto, quindi una soluzione che possiamo trovare appunto in maniera intuitiva è un dodicesimo più un dodicesimo uguale a un sesto, quindi è una soluzione in cui sia x che y valgono 12. Ovviamente questo è soltanto un inizio solo per familiarizzare col problema, mentre la soluzione dovrà necessariamente passare attraverso un procedimento generale. Sto per darvi la soluzione, quindi questo è il momento giusto per mettere in pausa il video. Allora, quello che possiamo fare inizialmente è di trasformare questa equazione, fare dei passaggi come spesso si fa con le equazioni, per metterla in una forma che sia più adeguata per poter poi trovare le soluzioni. Quindi intanto possiamo sommare le frazioni e trovare appunto x più y fratto x y uguale a un sesto e poi trasformare questa espressione eliminando i denominatori, scriverla in una forma intera, quindi x y uguale 6 volte x più y. Eseguendo la moltiplicazione x y uguale 6x più 6y e poi possiamo portare tutto a primo membro e scrivere x y meno 6x meno 6y uguale 0. Bene, fino a questo momento i passaggi sono abbastanza standard. A questo punto è necessario invece qualcosa di più creativo per poter scrivere in una forma, diciamo, migliore questa equazione. In particolare ci proponiamo di trasformare questo trinomio in un quadrinomio in modo tale che sia fattorizzabile mediante un raccoglimento parziale. E l'idea, quindi creativa, non di routine, è quella di aggiungere a tutti e due membri di questa equazione la quantità 36. Facendo questo, questo quadrinomio diventa appunto fattorizzabile mediante un raccoglimento parziale. Possiamo raccogliere x tra i primi due termini e meno 6 tra gli ultimi due termini. E questo quindi ci porta alla fattorizzazione finale x meno 6 per y meno 6 uguale 36. Ed è questa forma dell'equazione la forma da cui poi possiamo appunto ottenere le soluzioni. Per quale motivo? Perché questa forma è prodotto di due quantità uguale 36, due quantità che devono chiaramente essere intere. Allora per poter ottenere il numero 36 come prodotto di due numeri interi le possibilità non solo sono finite ma sono anche molto poche ed è molto facile elencarle. Quindi 1 per 36, 2 per 18, 3 per 12, 4 per 9, 6 per 6. Chiaramente le altre possibilità che non ho citato sono quelle in cui inverto semplicemente l'ordine dei due fattori. Beh allora cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio 1 rappresenta la quantità x diminuita di 6 e 36 rappresenta la quantità y diminuita di 6 di questa equazione. Quindi per ottenere le soluzioni basta aggiungere 6 a 1 e a 36, poi a 2, a 18 e così via. Quindi si otterrà ad esempio quindi nel caso della prima coppia 1 più 6, 7, 36 più 6, 42. Quindi la coppia 7, 42 sarà una soluzione. Quindi 2 più 6, 8, 18 più 6, 24, 8, 24 la seconda soluzione e così via. Quindi si otterrà 9, 18, l'altra soluzione, 10, 15 e poi ritroviamo quella soluzione che avevamo trovato in maniera intuitiva, cioè 12, 12. Chiaramente queste soluzioni a queste vanno aggiunte quelle che si ottengono semplicemente scambiando il ruolo di x e y. quindi ad esempio x uguale 42, y uguale 7, eccetera, eccetera. E questo sostanzialmente conclude la soluzione di questo problema. Adesso è interessante anche, vi propongo anche una estensione di questo problema. Quindi cosa succede se cancelliamo la richiesta che gli interi siano positivi? Quindi consideriamo tutte le coppie di interi, cioè la ricerca di tutte le coppie di interi che soddisfano questa equazione. Chiaramente quelle che abbiamo già trovate vanno bene, dobbiamo capire se ce ne sono altre. Allora intanto dobbiamo subito aggiungere che x e y devono essere comunque diversi da zero, perché altrimenti le frazioni a primo membro non esisterebbero. E poi per poter trovare le altre soluzioni mancanti, quindi rimuovendo il vincolo della positività, dobbiamo andare a considerare il fatto che in realtà il numero 36 si può ottenere come prodotto di due numeri interi, non soltanto quando entrambi i numeri sono positivi, ma anche quando entrambi sono negativi. Quindi le stesse coppie che abbiamo considerato al passo precedente dobbiamo considerarle cambiate di segno, quindi meno 1 per meno 36, meno 2 per meno 18 e così via. Ovviamente per ottenere le soluzioni da queste possibilità dobbiamo comunque aggiungere 6, perché queste due quantità sono sempre la quantità x diminuita di 6 e la quantità y diminuita di 6. Quindi per ottenere le quantità x e y dobbiamo aggiungere 6 e in questo caso quindi otterremo nel primo caso x uguale 5, y uguale meno 30, al secondo 4 meno 12, 3 meno 6, 2 meno 3 e in ultimo caso otteniamo x uguale 0, y uguale 0. Ovviamente quest'ultimo caso, vista la nuova condizione di esistenza delle frazioni, dobbiamo escluderlo come soluzione. Quindi in totale troviamo altre quattro coppie a cui vanno aggiunte chiaramente quelle che si ottengono semplicemente scambiando x e y, quindi ad esempio meno 35 eccetera eccetera. E questo conclude anche la soluzione del problema generalizzato. Bene, io ho concluso questo video, questa volta non vi lascio una citazione, ma vi lascio una interessante congettura che è molto correlata con questo problema, ma non è stata ancora dimostrata. Vi ringrazio dell'attenzione e come al solito vi chiedo di lasciare dei commenti al video ai quali sarò ben felice di rispondere. Grazie, alla prossima!